Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con RG Commerciale. Oggi siamo ospiti di Drinkable Bere Ben Ovunque per presentarvi un nuovo attrezzo che unisce il mondo della miscelazione con il mondo della cucina. Lo utilizziamo perché ha diverse caratteristiche che ci permettono di lavorare meglio, veloci e di lavorare con maggior sicurezza sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista igienico. Una delle caratteristiche principali è la valvola, una valvola molto forte creata per far fronte a pressioni molto alte, alte date dal periossido d'azoto che è il gas che noi inseriamo all'interno e il sifone crumè è in acciaio e ci permette di preparare sia preparazioni calde che preparazioni fredde. Ha una fascia gommata nella parte alta e di chiusura che ci permette di non scottarsi oppure di andare in contatto con le parti fredde. Caratteristica è la facilità di carica e la possibilità una volta utilizzato di metterla a lavare direttamente in lavastoviglie senza aver problemi di ordine e pulizia. Iniziamo con la preparazione, utilizziamo l'imbuto, uno degli accessori disponibili di Espresso RG Mania. Andiamo a versare la nostra vodka. Panna, del ginger beer, il nostro lime, sempre un altro accessorio al colino. Andiamo a chiudere il nostro sifone gourmet, diamo una bella agitata. Col sifone da mezzo litro, una carica di periossido d'azoto. Mettiamo il nostro erogatore con una bocca larga che si possa ricreare la percezione della panna montata. Tazza da tè, andiamo a versarlo, del lime a decorare e poi questa cosa del cetriolo che a qualcuno potrebbe far storcere il naso. E quindi serviamo i nostri Moscow Mule solidi.